Questa è una piccola macchina che fa tante cose. E cosa fa questa macchina? Praticamente la si usa in campo estetico. Genera ozono, ossigeno nativo, quindi ha un'azione disinfettante, uccide tutti i batteri del viso, ma non solo uccide batteri, ma ossigeno alla pelle e di conseguenza in alcuni casi addirittura spiana alcune rughe, se non sono particolarmente esagerate. Ma non solo questo, ma offre la possibilità di un colorito migliore della pelle perché ha la possibilità di una vasodilatazione dei capillari e di conseguenza una migliore riorazione del viso. L'ozono, voi sapete, ha questo effetto antibatterico, depurante e poi naturalmente rende, in questi periodi di virusmania, naturalmente uccide anche i virus. Quindi bene contro l'acne, bene per rialzare le rughe, bene per tonificare la pelle, bene per il collo, vedete questo è lo strumento proprio per il collo. Sentite, poi mentre lo fate, sentite anche l'ozono che lo respirate un pochino e un pochino fa anche bene.